Grazie a Dio, questa grande città che dà l'opportunità per la nostra cultura, per i marimoni, per il battesimo, poi il mondo della musica dà veramente tanto, tanto, tanto lavoro, perché a chi porta la macchina, a chi porta l'impianto, a chi porta il pianoforte, a chi porta... Cioè, è un indotto enorme, quindi io sono contento che posso rappresentare una categoria che comunque ama la musica, guadagna con la musica e dà lavoro con la musica. Quindi più che ho riscatto in me è l'orgoglio. Spero che questo muro che io ho rotto possa servire agli altri che vengono a loro.